Il Piemonte Visual Contest, concorso per raccontare la storia della regione Piemonte attraverso la visualizzazione dei dati pubblici, proroga i termini fino al 31 gennaio. I numerosi sviluppatori, designer, comunicatori che in queste settimane hanno dimostrato interesse per l'iniziativa avranno tempo fino a questa data per presentare gli elaborati. La premiazione dei lavori migliori di quelli selezionati dagli sponsor avverrà il 6 marzo 2014 durante Hashtag PA140, appuntamento annuale del Consiglio per discutere su social network e pubblica amministrazione.